Il Modica riparte da Sebi Catani in panchina e la Ragusa invece da Peppe Anastasi a Comiso sembra vicino al gruppo Mascara, sono i primi timidi in movimento di un calciomercato che nel territorio ibleo e Ipparini in particolare stenta a decollare. Troppe infatti le società oberate da debiti e mancanza di liquidità, troppe anche quelle che non sanno come e da dove ripartire, come ad esempio il Vittoria abbandonata al suo destino dopo stagioni fallimentari che hanno prodotto solo il distacco dei tifosi e un clima di generale rassegnazione indifferenza, difficile riavviare il motore in casa bianco-rossa anche perché ad oggi la confusione regna sovrana. Va meglio a Ragusa e Modica che hanno già annunciato appunto i rispettivi tecnici per la prossima stagione, Anastasi da un lato e Catana dall'alto, mentre a Comiso potrebbe essere la settimana decisiva per le sorti del club verde-arancio che standa ben informati potrebbe ripartire dal gruppo Mascara. Tutto tace infine in promozione dove Santa Croce e Akater e Ragusa non hanno ancora cominciato a programmare la stagione, ci si comincerà a muovere forse da qualche settimana anche perché le due società ipparine non hanno pressanti problemi di organico.